Ciao a tutti, è moto Kobe Bryant, leggenda internazionale del basket. Prima di affrontare questo tema, però ti ricordo di iscriverti al canale e gli appuntamenti di Torino venerdì 31 gennaio 2020 alle 20.45. Il mio seminario, Fai volare la tua autostima, e poi Milano domenica 1 marzo, Full Immersion dalle 9.30 al 19, Autostima e seduzione, innamora nel lavoro. E il riferimento è 333 15 11 703. Ricordo inoltre la possibilità di abbonarti sul canale Massimo Terramasco per intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me e sul canale Felicità Benessere per sostenere il progetto live. E allora, adesso veniamo a questo incidente. L'ex stella dell'usaggio dell'Akers è precipitato da un elicottero, il suo elicottero, con la figlia, una compagna della figlia, un genitore e il pilota. Proprio poco tempo fa, poco tempo prima, si è complimentato con il buon James, che l'aveva superato come terzo realizzatore della storia. vi sono 9 vittime nell'incidente di questo elicottero precipitato sulle colline di Calabasas, che è la zona a nord-ovest del downtown di Los Angeles. È incredibile come è andata questa cosa, non si sa ancora esattamente come sia accaduto, comunque, fatto sta che Kobe Bryant e la figlia e altre persone appunto sono morti. La moglie Vanessa non era a bordo di quell'elicottero, come le altre tre figlie. E quindi questo. Quindi tutto il mondo sportivo è in lutto, diciamo, per questo evento che è capitato. Diciamo, vi sono reazioni, diciamo, in tutto il mondo, fondamentalmente, in tutto il mondo sportivo, dalle stelle NBA a quelle del calcio italiano, internazionale, il mondo dello sport, da un certo punto di vista è sotto shock, perché Kobe Bryant rappresentava comunque un'icona dello sport mondiale, insomma. Perché lui comunque univa al talento, ma anche a una determinazione, una devozione, diciamo così, per la vittoria. Ed è stato uno dei migliori giocatori della storia del nostro tempo, con risultati che sono stati leggendari, diciamo. Bene, per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!